Un bel pomeriggio di riflessione e di confronto grazie alla presentazione del libro Andiamo da Giuseppe, curato dall'Arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellanni, intervenuto presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie e di Agropoli. Le riflessioni in occasione dell'anno Giuseppino sono state condotte valorizzando i diversi contributi teologici illustrati dalla professoressa Lorella Parente, docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno e sviluppati dal biblista Don Antonio Landi, docente presso la Pontificia Università Urbaniana. L'Arcivescovo di Salerno ha sottolineato l'importanza del cammino che ha coinvolto in questo anno la Chiesa locale, mentre Don Bruno Lancuba, in qualità anche di direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo, ha ringraziato per l'opportunità data alla comunità agropolese di avviare con questa riflessione il nuovo anno catechistico e pastorale. L'evento promosso grazie alla collaborazione tra l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, l'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno e dal Festival della Teologia Incontri ha visto la partecipazione delle diverse associazioni e movimenti presenti in parrocchia.